Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di alloro, altra pianta medica fantastica che sicuramente tutti abbiamo in casa, magari ce la troviamo in dispensa perché lo usiamo per rinsaporire i piatti, ma non tutti sanno dei meravigliosi benefici di queste foglie. Il potente antibatterico elimina funghi e batteri dal corpo, ma anche nell'aria, bruciando alcune foglie di alloro, andiamo a purificare e a disinfettare l'aria della nostra casa. Ma non solo, non tutti sanno che andando a bruciare alcune foglie di alloro andiamo a togliere la negatività in casa. Quindi andiamo proprio a fare una purificazione a 360 gradi della nostra casa. Oltretutto il suo sapore è pungente, ci rilassa, ci calma, ci distende, anche se abbiamo un leggero mal di testa. E tutto questo fa sì che ci aiuta anche a dormire meglio. Infatti io è mio solito accendere qualche foglia di alloro prima di andare a letto. Se ti senti stanco e giù di sono, bruciare qualche foglio di alloro ti aiuterà a sentirti subito meglio e a sentire la testa subito leggera. Provare per credere. Ottima pratica per la meditazione. Sorseggiare un infuso di alloro ci aiuta a normalizzare anche il ciclo mestruale. Quella alloro prima del diabete è un ottimo, è un altro olore. Ottimo, antitumorale. Infatti con alcuni cibi che noi ingeriamo andiamo a... Il corpo produce delle sostanze tumorali. Magari cibi sbagliati o cottura sbagliata di alcuni cibi. Andiamo a produrre proprio cellule tumorali. Questo succede ogni giorno. Poi grazie all'aiuto degli antiossidanti, appunto, degli antitumorali, della frutta, della verdura, dell'acqua a sufficienza, andiamo a... e dell'alloro appunto, a neutralizzare queste cellule tumorali. E quindi appunto andiamo a prevenire l'insorgenza di tumori. Quindi aiutiamo anche le nostre cellule a rigenerarsi meglio, appunto. Ottimo per l'insufficienza renale, per purificare quindi i reni e il fegato. Per malattie polmonari, purifica tutto il corpo. Ci aiuta nella guarigione in caso di influenza o di malattie virali. Bere un buon infuso di tè aiuta il nostro sistema immunitario a funzionare meglio. È un'ottima abitudine farlo tutti i giorni perché andiamo a potenziare appunto il nostro sistema immunitario e quindi andiamo a prevenire i malanni di stagione. Calma tosse e catarro, antidolorifico potente in caso di mal di stomaco, mal di pancia, quindi coliche, cattiva digestione, mal di denti, contrasta la litosi, ottimo per il cavorale. Provare per credere. L'alloro uccide anche i parassiti, qualora fossero presenti nel nostro corpo. Abbassa la temperatura corporea, quindi in caso di febbre, se non vogliamo assumere la tachipidina, se la febbre non è particolarmente elevata, sorseggiare un buon infuso di alloro ci aiuta ad abbassarla naturalmente. Potente antiossidante, anche in caso di inappetenza, è anche un alleato della nostra bellezza. Infatti possiamo utilizzare l'infuso rimanente con un dischetto di cotone come tonico astringente per la pelle del viso. E' ricco di vitamine C ed A, oltre al suo naturale olio essenziale, ed è ottimo anche per... Infatti è un ottimo antiporfora. Quindi, perché quando possibile non curarci con quello che la natura ci offre? I nostri nonni si curavano con i rimedi naturali, poi con l'arrivo della medicina moderna si è abusato troppo. E quindi ogni minimo dolorino adesso ricorriamo subito all'abusino, alla pasticca, ma non dovrebbe essere così, assolutamente. Perché lì per lì il dolore ti passa, ti passa anche velocemente, ma poi non sappiamo l'effetto, c'è il rovescio della medaglia, non sappiamo il danno che ha provocato da un'altra parte. Quindi, se non abbiamo malattie particolari, malattie gravi, perché non sfruttare le proprietà che la natura ci offre? Le meravigliose e innumerevoli possibilità che la natura ci offre per curarci naturalmente. Fammi sapere se anche tu hai provato le foglie di alloro, per qualche disturbo particolare, oppure se ne conosci altri. Spero che questo video ti sia stato utile, e se ti va ci vediamo alla prossima. Ciao!